La boswellia è una pianta originaria dell'Eritrea, dell'Etiopia, dell'Arabia Saudita, quindi del Medio Oriente. Dal lattice che cola dal tronco di questa pianta si ottiene un estratto secco che viene titolato in acidi boswellici al 60 o al 70%, quindi è molto ricco di questi acidi boswellici. Il dosaggio dell'estratto di boswellia è intorno ai 8 e 10 mg per chilo di peso al giorno. Questo estratto va preso a stomaco pieno, quindi alla fine del pasto, per esempio dopo pranzo e dopo cena. L'estratto di boswellia è uno dei migliori antinfiammatori naturali. In particolare questo estratto ostacola la produzione di sostanze che il nostro organismo produce e che aumentano l'infiammazione. Questo è particolarmente utile per esempio nelle malattie reumatiche, l'artrosi, quindi dolore alle articolazioni, male al collo, mal di schiena, male alle ginocchia, eccetera eccetera. Quindi in tutte queste forme artro-reumatiche la boswellia è molto utile per alleviare il dolore e per migliorare il movimento. Peraltro questa pianta non è in grado solo di togliere un po' il dolore, ma è anche capace di ridurre il danno alla cartilagine delle articolazioni fatta dall'infiammazione. Quindi nel tempo la boswellia non è solo un sintomatico, toglie il dolore, ma è anche un curativo perché ostacola la degenerazione della cartilagine. Questo estratto di boswellia è utile anche nelle malattie infiammatorie dell'intestino. Infatti anche in questo caso ci sono numerosi studi che dimostrano che in persone che soffrono di queste malattie la boswellia è utile. Questo estratto non va preso in gravidanza, durante l'allattamento e nel bambino di età inferiore ai 3-4 anni. L'utilizzo della boswellia può anche essere cronico perché questo estratto è decisamente ben tollerato. Grazie. Grazie. Grazie.